Successo e ripetizione, podi monopolizzati, una moto ambita da tutti. Oggi parliamo di Ducati, io sono lo ZAM, questo è il 136esimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Gli anni difficili sembrano lontanissimi, da metà 2021 i piloti Ducati sono quelli che hanno vinto più gare di tutti. 8 moto in pista, tutte competitive, nel 2022 ecco il titolo con Francesco Bagnaia. È l'apoteosi? No, tutt'altro, nel 2023 la situazione è ancora migliore, con 3 piloti che si stanno giocando il titolo, il primo della classifica, quello della squadra ufficiale, il secondo con la Desmo 16 ufficiale, ma in una squadra satellite, il terzo con una GP22 di una squadra satellite. Insomma non si può fare di più, sicuri? Ecco che nel 2024 arriva Mark Marquez per qualcosa, per certi versi storico, non si era mai visto un pilota lasciare la HRC per andare a correre con una moto dell'anno precedente con un team satellite. Come se non bastasse, ecco che in Superbike arriva anche Andrea Iannone. Come si gestisce tutto questo? Lo chiediamo a Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse. E' Paolo l'ospite di questa nuova puntata di A Tutto Gas. Buongiorno Paolo, grazie di essere mio ospite. Allora, da dove vuoi iniziare? Iniziamo dai successi che mi piace. I tempi bui sembrano veramente lontanissimi. Sì, ce li ricordiamo bene perché come sai, insomma, ci siamo conosciuti poi in quegli anni particolarmente difficili con Ducati, soprattutto nel 2013. Però è chiaro che negli ultimi anni stiamo raccogliendo i risultati del lavoro che poi è iniziato, se vuoi, a metà 2014 insieme ad Aligna e che ha portato poi alla moto 2015 e tutte le evoluzioni che ne si sono succedute. Quindi siamo contenti, siamo considerati la moto di riferimento. In effetti tutti i piloti che corrono con Ducati sono riusciti a essere competitivi. Quindi è una bella soddisfazione. Ecco, è impressionante quel dato lì. Ci sono tre piloti in lotta per il titolo e sono di tre team differenti con tre situazioni differenti. Insomma, vuol dire che tutto funziona bene. Sì, tutto funziona bene, anche se la verità è che Orge Martin ha esattamente lo stesso pacchetto tecnico di Pecco ed è un pilota ufficiale Ducati perché ha un contratto con noi. Come sai, l'anno scorso è stato in ballo fino a un certo punto della stagione per la squadra ufficiale. Poi abbiamo scelto Enea Bastianini che aveva vinto quattro gran premi e quindi era comunque meritevole di questa promozione, ma non abbiamo fatto mancare nulla a Orge che sta dimostrando quest'anno quanto sia forte, ma questo lo sapevamo. Senti Paolo, diciamo dal 2017 in poi, quando Andrea Dovizioso si è giocato i mondiali con Mark Marquez, eccetera, si era capito che forse era solo una questione di tempo, prima o poi la Ducati ci sarebbe arrivata. Ecco, ma arrivata in questa maniera era difficile da prevedere. Sì, devo dirti che è vero che nel 2017 avevamo visto con tutte le vittorie di Andrea che la moto c'era, magari mancava ancora qualcosina, però insomma eravamo lì, ci siamo giocati il mondiale fino all'ultima gara e comunque siamo arrivati secondi con lui nel 2018 e anche nel 2019. Sembrava che mancasse sempre qualcosa, no? Sempre secondi, ma c'era qualcuno che ci riusciva a stare davanti anche nel 2021, secondi con Bagnaia, finale stagione incredibile, però ti ripeto, sembrava che ci fosse questa sorta di maledizione che ci impediva di vincere il mondiale. L'anno scorso in realtà sappiamo tutti com'è andata, quindi grande soddisfazione e sì, in effetti forse neanche noi ci aspettavamo una situazione di dominio tecnico, se possiamo definirlo così, che corrisponde poi peraltro a un momento particolarmente difficile per la casa giapponese, che anche questo è qualcosa che io non ricordo sicuramente nel passato recente, quindi situazione di cui stiamo cercando di trarre il massimo vantaggio, però sono situazione particolare in cui le case europee in generale hanno sicuramente superato quelle giapponesi e educati tra le case europee e quella che sta raccogliendo più risultati. Ecco, quando voi ascolterete questo podcast, mentre state ascoltando questo podcast, in realtà è già stato effettuato il Gran Premio d'Australia, io e Paolo ovviamente non possiamo sapere come è andato, però facciamo un discorso generale. Allora, discorso generale, restringiamo la lotta per il titolo, almeno io la restringo a due piloti, a Bagnaia e Martin, perché Bezzecchi personalmente lo vedo un po' troppo lontano e con due piloti davanti fai più fatica a recuperare, ma al di là di questo volevo coinvolgerti in questo sondaggio fatto con il lettore di Moto.it, chi è il favorito al titolo tra Bagnaia e Bezzecchi, parliamo sempre prima del Gran Premio d'Australia e il 75% mi sembra, dice Bagnaia e il 25% Martin, ma non per una questione di classifico di forza, purtroppo dico io, ma perché molti dicono un pilota, intanto lo sai benissimo anche tu, un team satellite non potrà mai vincere il mondiale, la Ducati non glielo farà mai vincere, c'è una roba che a me manda il manicomio. A me fa arrabbiare, per usare un termine elegante, perché non è vero, nel senso che credo che gli addetti ai lavori lo sappiano. Allora, se Ducati avesse questa preoccupazione non darebbe o non avrebbe dato a Jorge e Martin esattamente lo stesso tipo di moto e lo stesso tipo di evoluzioni, se quelli più attenti avranno notato che da qualche gara a questa parte ci sono delle alette bizzarre montate sulle forcelle anteriori. Quali sono i due piloti che ce l'hanno? Bagnaia e Martin. Quindi, in realtà, e questo potrà sembrare strano, ma non posso farci niente, se la gente non ci creda rimanga della sua opinione. Sia Bagnaia che Martin hanno esattamente lo stesso pacchetto tecnico. Nella Team Prama ci sono sette persone di Ducati Corse che lavorano e, come abbiamo visto, nelle ultime gare Martin è veramente fortissimo, nel senso che anche in Indonesia era davanti con un bel vantaggio quando purtroppo è caduto. Quindi, per noi, mettere i piloti nella migliore condizione per poter dimostrare il loro talento su una Ducati è la cosa più importante. Poi capisco che quelli che amano fare delle teorie di complotto pensino che questo non possa succedere, ma mi sembra davvero che i fatti smentiscano tutte queste cose. Voglio dirti, per Ducati sarebbe molto semplice dare una moto meno competitiva ai piloti che non sono nella squadra ufficiale e quindi tenere un certo vantaggio per i due piloti ufficiali. Abbiamo deciso di non farlo, giusto o sbagliato che sia, è una nostra politica, abbiamo deciso di non farlo e di mettere i piloti Ducati Lenovo e i piloti Prama che esattamente hanno le stesse condizioni. Punto e basta. E quindi vinca migliore, nel senso che l'abbiamo detto, l'ha detto Dall'Igna, l'ha detto anche Domenicali in un'intervista recente. È chiaro che il il team ufficiale ha qualche responsabilità in più perché ha dei colori al colore rosso e ci sono una serie di partner che hanno deciso di investire su questa squadra. Tanti insistono su questo argomento. Sì, però ti voglio dire, i fatti dimostrano che non è così. Cioè vuol dirti tu... Ma ti dà fastidio però che venga detto. Mi dà fastidio che venga detto? Lo capisco perché può sembrare strano che una casa decida una politica di così grande libertà per due squadre che noi consideriamo due squadre ufficiali. In realtà Prama ha un team factory supporte, da differenza di VR46 e Gresini che sono team satellite per noi e questo ha un significato importante. È grazie a Prama che abbiamo portato dei piloti in una squadra ufficiale ed è grazie a questo tipo di politica che abbiamo consentito a piloti appunto di emergere e poi di guadagnarsi il passaggio in una squadra ufficiale. È chiaro che in questo momento c'è una situazione particolare perché abbiamo, diciamo, i due piloti che si stanno giocando il titolo mondiale sono uno nella team Lenovo e uno nel team Prama. Però, ripeto, se non volessimo correre questo rischio avremmo sicuramente preso delle strade diverse. Guardiamo un attimo al 2024 però facendo il primo passo indietro. Sorpresi dalla decisione di Marco Bezzecchi di rimanere nel team VR46? Ricordiamo che Ducati aveva proposto a Marco Bezzecchi di andare nel team Prama. Allora, io personalmente non sono sorpreso. È chiaro che noi abbiamo pensato che Marco meritasse per le prestazioni che ha dimostrato quest'anno di avere una moto ufficiale e quindi abbiamo cercato di offrirgliela. Per motivi contrattuali le moto ufficiali nel 2024, le al team Prama, quindi per noi non era possibile fare una quinta moto perché l'abbiamo fatta l'anno scorso ma ci siamo resi conto che una complicazione logistica e tecnica porta dietro dei costi eccessivi per cui non siamo in grado, non eravamo in grado di offrire una moto 2024 anche al team VR46 e quindi l'unica opportunità che c'era per noi di offrire a Marco la moto 24 era di metterlo nel team Prama, probabilmente, anzi senza probabilmente accompagnato da Matteo, però è chiaro anche Matteo Flaminie che è il capotecnico. Però è anche vero che sapendo quanto Marco è cresciuto grazie alla VR46, all'Accademia, all'ambiente che c'è, quanto abbiano creduto in lui mettendolo in MotoGP lo scorso anno e quanto abbiano investito su di lui, io ho capito perfettamente la scelta. Marco credo per un senso di gratitudine ma anche perché credo che per lui l'ambiente che ha intorno, un ambiente in cui si sente in famiglia con persone con cui si ritrova e di cui è la massima fiducia sia qualcosa che lui ha ritenuto più importante rispetto a avere l'ultima evoluzione della moto, quindi personalmente lo capisco e lo apprezzo. Ecco, per sostituire Zarko avete scelto Borbidelli, vuole chiederti il perché e per esempio avete pensato anche a Marini? Lo butto lì? No, no, ma abbiamo fatto una serie di valutazioni, sicuramente anche Luca faceva parte di questo pacchetto possibile, poi in realtà per una serie di motivi la decisione si è spostata più su Franco, anche perché credo che a VR facesse piacere comunque continuare anche questo percorso con Luca, non solamente con Bezzecchi, quindi io penso che Franco venga da una situazione difficile, non dimentichiamoci e non sta a me a dire quali sono le ragioni per cui non ha performato come ci aspettavamo, ma che quando è stato spostato in team ufficiale non gli hanno messo di fianco a Ramon Forcada, io credo che il rapporto di fiducia e di empatia e di tutto quello che vuoi tra un capotecnico e un pilota sia uno degli elementi che gli consentono di andare forte in moto e quindi pensiamo che abbia un grosso potenziale che può ancora esprimere, quindi ci fa piacere dargli questa possibilità e speriamo e siamo convinti che il prossimo anno sarà tutto, andrà nella direzione giusta. Ecco ma avete, hai detto Ramon Forcada, avete pensato anche a Ramon Forcada? No, non abbiamo pensato a Ramon Forcada perché dal punto di vista dei, siamo in ufficio come potete vedere, Ramon Forcada no perché credo che siamo contenti dei tecnici che abbiamo in questo momento, quindi c'è Branchini e credo che farà un ottimo lavoro con Franco. Ecco, Bastianini invece, Bastianini riguarda sia il 2023 sia il 2024, allora sappiamo tutti i problemi che ha avuto nel 2023, se ci fai tu un quadro generale di Bastianini. Beh, allora Enea sicuramente ha fatto una stagione entusiasmante lo scorso anno ed è la ragione per cui alla fine abbiamo scelto lui per la squadra ufficiale e le quattro vittorie sicuramente hanno avuto un peso importante in questa scelta e devo dire che ha fatto un po' più fatica di quello che ci aspettavamo all'inizio dell'anno, ancora prima dell'incidente nei test, ad adattarsi se vuoi a un ambiente di lavoro diverso. Non dimentichiamo che anche in questo caso il suo capotecnico Alberto Giribuola ha deciso di passare in KTM e quindi Enea che aveva avuto, se vuoi, l'imprinting della MotoGP proprio con pigiamino, come lo chiamiamo tutti, in realtà si è trovato a lavorare nel team ufficiale con delle persone nuove e anche con un capotecnico molto bravo Marco Rigamonti ma con cui ha dovuto poi stabilire, ricominciare da capo. E sicuramente il fatto che alla prima sprint race in Portogallo ha avuto questo incidente questo ha complicato tutta la stagione, è rientrato e poi dopo qualche gara ha avuto quest'altro incidente quindi diciamo che è una stagione in cui tutte le cose che potevano andare storte sembra che siano andate storte ma abbiamo visto in Indonesia soprattutto la domenica che è andato forte perché ha fatto il giro più veloce della gara e quindi penso che sia solo una questione di tempo. Allora adesso stiamo arrivando piano piano all'argomento Marquez perché molti dicono che Marquez nel 2024 corre col Team Resigni e nel 2025 sarà nel team ufficiale. Facciamo un passo alla volta però cominciamo dal 2024. Allora, io personalmente ero uno di quelli che dicevo non potrà mai andare via dalla Honda non potrà mai rompere il contratto, un classico io l'avevo detto. Tu come hai vissuto tutta questa vicenda se ce la puoi un po' raccontare? Ma l'ho vissuta se vuoi fino a un certo punto un po' come voi nel senso che i rumor giravano già nel paddock da qualche tempo anche io ero convinto che Honda soprattutto in un momento in cui deve ricostruire tutto sembra che ci saranno, ci sono già stati alcuni cambiamenti dal punto di vista tecnico e da quello che si dice ce ne saranno altre più importanti nei prossimi mesi per rifondare in qualche modo HRC. Non è normale che un'azienda come Honda e HRC siano in una condizione del genere e quindi però pensare che dovendo rifondare il progetto MotoGP potessero rinunciare a un pilota di punta come Marquez mi lasciava perplesso tanto che ad oggi non si sa ancora chi sarà il pilota di punta di Honda perché ci sono confermati Nakagami e Zarco da LCR e Mir nella squadra ufficiale quale sarà il pilota, punto interrogativo non si sa, si sentono voci di offerte a piloti che hanno contratti con altre ma diciamo che non ci interessa in questo momento e quindi anche io ero convinto come te che Honda alla fine avrebbe detto senti caro Mark, mi spiace, capiamo che tu non ti trovi sulla moto è anche vero che noi ti abbiamo supportato anche negli anni in cui hai corso molto poco perché reduce dall'incidente di Haaretz ma dacci una mano a risalire la china evidentemente ci siamo sbagliati tu ed io, non è andata così e quindi Honda ha fatto questo bel gesto di lasciare libero Mark e Mark si è accordato con il team Gresini immagino dopo aver parlato molto a lungo col fratello che nel team c'è già e che quindi sa, io credo che Mark abbia valutato bene la potenzialità anche delle moto dell'anno precedente se vuoi avendo visto cosa ha fatto suo fratello ma cosa hanno fatto anche gli altri piloti Bezzecchi e Marini anche di Gian Antonio nell'ultimo Gran Premio in Indonesia quindi anche se la decisione l'aveva già presa voglio dirti però quindi da un certo punto di vista se vuoi il fatto che un pilota così blasonato decida sostanzialmente di correre gratis per un team indipendente pur di salire su una Ducati è un motivo di... Correre gratis vuol dire che lui ha zero in gatto Da quanto mi risulta è così però poi ti ripeto non lo so basta chiedere credo al team Gresini o chiedere a lui se lo vogliono dire ma mi risulta che stia correndo praticamente a parametro zero sicuramente Team Gresini non può permettersi di pagare un pilota le cifre a cui era abituato Mark Marquez quindi qualunque sia la situazione stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso in cui il fattore economico non è stato quello che ha guidato questa scelta e quindi da questo punto di vista sicuramente dobbiamo essere se vuoi orgogliosi del fatto che anche lui considera la Ducati come la miglior moto per ritornare ad essere un pilota competitivo che si diverte a correre che è quello che lui ha dichiarato detto questo non mi nascondo il fatto che sia un brutto cliente in casa perché comunque noi abbiamo dei piloti che si stanno giocando al mondiale che sono i nostri piloti che sono Bagnai e Martini abbiamo Bezzecchi terzo quindi da un certo punto di vista se vuoi non c'era questa necessità di inserire un ulteriore elemento di competitività perché mi sembra che in questo momento la Ducati sia sufficientemente competitiva con i piloti che ha già posso dire che da direttore sportivo ne avresti fatto anche a meno? in qualche modo sì nel senso che è una complessità da gestire in più ma voglio dirti però secondo me come tutte le situazioni bisogna vedere anche il lato positivo credo che sia un benchmark ulteriore per i nostri piloti per dimostrare quanto sono forti e per trovare se vuoi una motivazione in più per andare ancora più forte Paolo però siccome stiamo parlando di Mark Markers non di Giovanni Zamagni allora io non ci credo io personalmente che il team Gresini abbia deciso in maniera indipendente proprio perché stiamo parlando di Markers e sono convinto che Ducati gli ha detto ok Ducati è stata informata ma ti devo dire la verità noi abbiamo contrattualmente solamente con Pramac la possibilità di scegliere i piloti con il loro accordo i contratti con VR46 con Gresini non prevedono giusto o sbagliato che sia non prevedono né una nostra approvazione né un fatto che ci debbano consultare poi è vero che ci hanno informato quando la trattativa sembrava essere in una fase più calda più vicina a una possibile conclusione ma detto questo siccome non avremmo avuto la possibilità comunque di dire né di sì né di no nel senso che non era nostra facoltà direi che abbiamo capito che per Gresini era un'occasione unica quando mai nella storia può succedere che un team indipendente possa schierare un otto volte campione del mondo diciamo con dei costi molto ragionevoli mettiamola così quindi dal punto di vista di Gresini si tratta di un'opportunità unica e quindi non ci sembrava neanche corretto dover dire a qualcuno che aveva questa opportunità di rinunciarci ecco allora a me non piace parlare troppo in là del futuro fricotti del 2025 però te lo devo chiedere allora ripeto molti dicono ah è l'anticamera per arrivare in Ducati ufficiale sì o no non te lo so dire può essere anche l'anticamera per essere sul mercato per KTM piuttosto che per Aprilia o per chiunque abbia un nel 2025 quasi tutti i contratti dei piloti ufficiali sono in scadenza salvo Binder che è stato rinnovato per i prossimi cent'anni cent'anni veato lui è brava KTM ma direi che si apre uno spettro se vuoi di possibilità in cui la Ducati è una possibilità ma non ci sono opzioni non ci sono impegni di nessun genere quindi il mercato sarà aperto e vedremo cosa succederà nel 2025 però non è qualcosa che è successo con un obiettivo particolare per il 2025 anche perché so che è difficile crederlo ma è qualcosa che è stato soprattutto deciso da Mark Markets e dal team Gresini e non da Ducati allora facciamo un salto in Superbike campionato al quale tu sei molto affezionato da sempre l'ultima novità anche questa si sapeva da tempo però insomma c'è l'ufficializzazione di Andrea Iannone che correrà con il team Go11 si ci puoi dire qualcosa di questa operazione? ma è chiaro che questa operazione è stata definita nelle settimane scorse poi credo che per motivi anche di opportunità abbiano aspettato che la squalifica di Andrea fosse completamente scontata e quindi poi di fare un annuncio quando finalmente Andrea è diventato un pilota libero di decidere del proprio futuro cosa che non era fino a qualche settimana fa a me personalmente fa piacere perché credo che la voglia con cui Andrea sta affrontando questo prossimo impegno dimostri quanto ancora voglia di correre poi quanto sarà competitivo difficile dirlo quattro anni sono lunghi quattro anni fuori dalle competizioni sono lunghi per cui per quanto un pilota si possa allenare per quanto uno possa andare in pista una cosa è girare da soli o girare comunque durante un track day è una cosa è trovarsi in mezzo a una gara di campionata mondiale Superbike abbiamo visto che sicuramente i top rider in Superbike vanno molto forte però abbiamo anche visto che Danilo Petrucci ci ha messo un pochettino per trovare il suo feeling con la moto e poi però comincia ad andare forte comincia ad andare sul podio quindi io credo che magari ci vorrà un pochino di tempo per Andrea però che possa essere tra i protagonisti protagonisti vuol dire sul podio, protagonisti vuol dire vincere credo che per il titolo mondiale sia magari un po' troppo ambizioso è complicato però l'importante è che riprenda così quelle quelle abitudini e quel piacere di guidare la moto e che si possa togliere le soddisfazioni poi vedremo alla fine è un pilota ancora relativamente giovane se guardiamo cosa sta facendo Bautista che ha qualche anno più di lui e il talento è sicuramente straordinario permettimi una battuta in chiusura siete diventati un po' la croce rossa salvate salvate il soddato Ryan no beh però pensare che la Ducati oggi sia considerata da tutti i piloti MotoGP e Superbike come l'ancora di salvezza passami il termine cioè una moto con cui tutti i piloti di talento pensano di poter vincere delle gare è sicuramente una soddisfazione che va a tutte le persone di Ducati e di Ducati Corse perché vuol dire che in questi anni abbiamo sviluppato delle moto di altissimo livello quindi da questo punto di vista per l'azienda essere la moto più desiderata in MotoGP e Superbike non può essere che una notizia positiva amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale finisce qui questa puntata di A Tutto Gas ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto vi do appuntamento a domenica prossima ma come sempre soprattutto ringrazio il mio ospite Paolo Ciabatti grazie Paolo ciao a tutti e in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti